Grazie, innanzitutto per me è un'emozione intervenire in questo congresso e intervengo particolarmente orgoglioso e fiero dei miei giovani padrani che settimana scorsa sono andati a Pisa per ribadire la propria superiorità morale e ideologica nei confronti di quelle quattro zecche dei centri sociali che ormai sono diventati un covo di tossicodipendenti, lanciatori di bombe e carte di fumogeni che pensano di farci paura con le minacce e con la violenza. I nostri sogni e i nostri ideali sono più forti di qualsiasi minaccia o di qualsiasi violenza, noi non ci fermiamo, andiamo avanti a testa alta, non abbesseremo mai i nostri simboli, le nostre bandiere, le nostre fascette perché siamo più forti di tutti e la nostra testa sarà sempre alta di fronte a qualsiasi tipo di minaccia. Però quali sono i nostri sogni, i nostri obiettivi e i nostri ideali dei giovani padrani? Innanzitutto la lotta incondizionata, senza sé e senza ma, nei confronti dello Stato italiano che per noi continua e continuerà a essere il primo nemico. Noi combatteremo sempre contro una Stato che accoglie gli immigrati clandestini a 32 euro al giorno, convitto alloggio pagato e lascia i nostri giovani, i nostri anziani sotto un ponte o in mezzo a una strada. Noi stiamo con i nostri giovani, con i nostri anziani e vaffanculo agli immigrati clandestini che se ne tornino da dove sono arrivati perché non c'è più posto per nessuno né a Milano né a Brescia né in tutta la Padania. Però secondo me adesso abbiamo i mezzi per fare una lotta senza sé e senza me nei confronti dello Stato italiano. Agendo soprattutto dalle regioni, agendo soprattutto con i governatori della Lombardia, Roberto Maroni e del Veneto Luca Zaia. Io chiedo di continuare a portare avanti il tema del 75%, il 75% delle tasse dei contribuenti lombardi devono rimanere in Lombardia e se qualche pseudo alleato non è d'accordo con quelli che sono i nostri fondamenti, i nostri pilastri, quella è la porta e se ne vadano a cercare spazi altrove perché noi non dobbiamo scendere a compromessi su questi temi con nessuno. E poi come ha ribadito prima Luca durante il suo intervento il tema del referendum. Il referendum si deve fare ma perché non lo chiedono soltanto i militanti ma lo chiedono i cittadini lombardi. È scritto su questo cartello siamo stufi di devolvere 153 milioni di euro allo Stato italiano che in cambio non ci dà niente e ci sta togliendo ogni speranza nel futuro e nell'avvenire. Come Giovani Padani la nostra forza e la nostra azione si concentra soprattutto all'interno delle scuole dove chiediamo che vengano istituiti i libri di Oriana Fallaci perché è stata la prima scrittrice libera che ha capito il pericolo che c'è fuori, l'onda islamica che ci sta tentando di colonizzare. Chiediamo che all'interno delle classi siano stabilite delle quote di studenti extracomunitari perché chi parlava il turco, l'albanese o il rumeno fino all'altro ieri non può e non deve studiare con i nostri studenti. Chi parla l'italiano da dieci anni non può sempre venire dopo rispetto agli altri. Le scuole e le classi non devono essere dei ghetti dove studiano e dove lavorano studenti extracomunitari quindi al massimo tre per classe e prima devono certificare la loro comprensione della lingua italiana altrimenti vadano altrove. E poi chiediamo che lo Stato finanzi le scuole che sono indegne, ci sono delle strutture scolastiche che non sono a norma e anziché devolvere i soldi ai profughi o ai clandestini li utilizzi per risistemare gli edifici scolastiche, le strutture scolastiche che non permettono spesso ai nostri giovani di studiare. E poi sul tema immigrazione chiediamo innanzitutto la chiusura delle frontiere perché non si può e non si deve accogliere tutti, ci deve essere un controllo nei confronti di tutte le persone che varcano i confini e con la guerra si deve rispondere alla guerra. Noi anteponiamo al metodo buonista e tollerante di Renzi e di Alfano o di una certa chiesa capeggiata dai Galatino o da quei parroci cattocomunisti il metodo Putin. Alla guerra si risponde con la guerra, alle bombe si risponde con le bombe. Non dobbiamo avere paura di difendere casa nostra dall'invasore, dobbiamo essere padroni a casa nostra e dobbiamo difenderci con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Noi non ci fermiamo, noi lotteremo sempre a fianco del nostro segretario federale Paolo Grimoldi e Battista Salvini e del nostro nuovo segretario nazionale Paolo Grimoldi. Il ringraziamento va sempre a Umberto Bossi perché se siamo qui oggi lo dobbiamo soprattutto a lui. Grazie, viva la Lega Nord, viva i giovani padani e viva i militanti che sono i diamanti di questo movimento. Non ci fermiamo mai!